Per qualche motivo ero veramente contento di vedere quella rognosa di Anna. Finalmente ha smesso con gli scherzi querfidi. Forse si vergogna di aver abbandonato un compagno sul campo di battaglia. Grazie a tutti. Non ti avevo preso seriamente prima. Hunter invece, lui ci aveva visto giusto fin dall'inizio e ti ha dato fiducia. Mi ci è voluto del tempo. Non l'avevo capito finché non ti ho visto in azione. E per poco non ti facevo ammazzare. Non mi rendi le cose facili, Artyom. Adesso la smetto. Forza, vai a prepararti. Tra poco arriveranno i ragazzi. Andremo tutti insieme all'Optia Broskaya. A proposito, un venditore ambulante di armi si è fermato qui per la notte. Così potrai dare ammocchiata alla sua merce. È un'idea fantastica, ragazza. Aiutate un vecchio a sopravvivere in questi tempi bui. Allora, che succede? Comprate qualche arma. L'inquadra degli Stalker è in marcia. Saranno qui entro la prossima ora. Ottimo. Ciao, amico. Sei mai stato nelle catacombe? Solo una volta. Erano le catacombe di un'antica chiesa. Non so quanti secoli potessero avere. Sono sopravvissute persino i bombardamenti nucleari. Alcune persone della chiesa si erano nascoste lì dentro durante la guerra, ma... Ma sono scomperse. Potrebbero essere arrivate fino alle gallerie principali della metro, oppure... Sai, la gente racconta anche altre cose. Ti riferisci alla mammona? Chi potrebbe essere? Wow, i nostri sono veloci. Fate attenzione, non si sa mai. Parola d'ordine. Posto di blocco. È quella vecchia. Conosco quella voce. Merda, non riesco ad associarla a nessuno. Aspetta un attimo, potrebbe essere... Jasnitsky. Tu, dannato traditore. Anna, che sorpresa. Non sono un traditore. Non mi sono mai schierato dalla tua parte. Lei viene con noi. Ma... Venga, brigliamoci. Non mi sono mai... Non mi sono mai schierato. E poi... Tornata... E poi... ... ... ... ... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti